Problemi di volume in casa o coi vicini? Ciao, sono Claude! E se i vostri vicini vi stanno minacciando di denuncia, ho trovato il modo per risolvere. E anche voi, tenete così alto l'impianto della vostra console che fate vibrare i vetri a tutto il vicinato, svegliate tutti quelli in casa e siete l'incubo dei familiari e dei vicini? Bene, è stato annunciato un nuovo dispositivo in grado di trasmettere l'audio direttamente alle tue orecchie senza la necessità di indossare le cuffie. E questo potrebbe rivoluzionare tutto il modo di fare musica in casa senza dar fastidio a nessuno. Non ci volevo credere, ma esiste davvero. Noveto Systems, questa azienda israeliana che ha lanciato oggi sul mercato Soundbeamer 1.0 ha prodotto questa tecnologia che promette di far ascoltare musica senza disturbare gli altri. trasmetterà il suono direttamente alle tue orecchie il che significa che potrai sentire il suono ma gli altri intorno a te no. Quindi lo sentirai solo tu. Rileva dove sono le tue orecchie quindi non devi stare fermo perché funzioni come un DJ che sta facendo il suo DJ set. Ad esempio potresti ballare e il suono ti segue e allora non ci resta altro che andare a vedere. Ed eccolo qua. ascolta il futuro. E questo è il device chiamato Soundbeaming tradotto trasmissione del suono che invia l'audio direttamente all'utente mentre gli altri non sentiranno proprio nulla almeno così sembra. Poi vedremo. Sfrutta un modulo di rilevamento 3D che individua e traccia la posizione dei tuoi padiglioni auricolari utilizza le onde ultrasoniche per inviare l'audio all'utente. Quando si è dentro il range si può sentire l'audio che esce dalla cassa ma lo potrai sentire solo tu quando sei fuori non sentirai più niente è praticamente personale solo per te e per le tue orecchie e questo sarebbe molto utile per i DJ che stanno suonando ma anche per i gamer per chi fa gaming e mette la musica a stecca oppure chi vuol vedere film dove sparano tutte quelle cose lì senza avere niente nelle orecchie senza disturbare gli altri che stanno dormendo o stanno riposandosi o si devono alzare presto la mattina quindi vanno a letto tardi noi possiamo farle 3 alle 4 la notte facendo set tutto quello che vuoi. Come potrebbe cambiare il futuro dei DJ set? Le sessioni di pratica per i DJ in genere sono molto rumorose e farlo mentre gli altri sono in casa o soprattutto per i vicini è una cosa abbastanza fastidiosa noi non ce ne rendiamo conto ma ecco sì in genere i DJ ovviavano a questo almeno stanno ovviando ancora usando lo split cue o l'headphone mix cioè quel knob che ti permette di sentire quanto più master da una parte e la cuffia dall'altra il preascolto dall'altra però non tutti riescono ad avere due segnali a splittarli bene nell'orecchio quindi questa cosa non viene molto bene a tutti. La tecnologia Soundbeamer ci dà la possibilità di utilizzare questi altoparlanti come faresti quando utilizzi le casse normalmente e quindi puoi evitare di disturbare tutto il vicinato di disturbare i bambini che dormono e tutti quelli che non vogliono sentire la tua musica. L'unico problema anzi ce ne sono due il primo è che la compagnia israeliana dietro la tecnologia Noveto spera di avere Soundbeamer disponibile sul mercato prima del prossimo Natale quindi prima del prossimo Natale questi signori ti dovrebbero tirar fuori questa cassa che ci potrebbe aiutare vedete non solo come DJ set ma anche come home fitness come in auto per ricevere istruzioni dal navigatore sul traffico una chiamata oppure per i tv e speakers o le videoconference a un multi utilizzo per qualsiasi evenienza e vedete già qua come viene a spiegare sul video ci fa vedere in pochi attimi come si trasmette il suono tramite questa cassa e vedete come si trasmette il suono queste sono le onde che dovrebbero arrivare al nostro orecchio nel range e colpirebbe solamente chi è dentro questo range come vedete spiegato da questo video molto bene il secondo punto dove ho molti dubbi e dove nessuno parla a quanto pare è la latenza la latenza è un problema per i DJ perché se il suono ti arriva diretto tu riesci a sentire le battute con cui devi mixare ma se ti arriva con un millesimo di ritardo sei fregato ragion per cui le cuffie bluetooth o gli auricolari bluetooth non vanno bene per i DJ nella maggior parte dei casi quindi bisogna accertarci se questo manderà ritardo o meno cioè latenza però se fosse veramente come penso l'invenzione sarebbe geniale devo ricordarvi dei corsi per DJ corsidjproducer.com potrete fare i corsi per DJ o i corsi di produzione musicale con me compilando il form nella sezione contact sia per quelli che cominciano da zero per quelli che vogliono fare corso di aggiornamento o per chi è già bravo e vuole passare al livello superiore potete contattarmi anche nella pagina facebook all'interno di ogni video trovate nelle informazioni link della pagina facebook potete nei messaggi contattarmi trovate anche la pagina instagram iscrivetevi la pagina telegram con tutti i contenuti extra con tutte le mie chanfrusaglie con tutti i miei messaggi che vi mando ogni giorno ovviamente con notifiche silenziose senza disturbarvi ma se vi interessa il mondo di SOS4DJ e gli spoiler e l'anteprime potete iscrivervi alla pagina telegram mentre è fondamentale l'iscrizione a SOS4DJ perché dovete farci crescere per noi è importante un bel attestato di stima a voi non costa niente cliccare qua su iscriviti per noi è importante attiva la campanella metti un bel like se ti è piaciuto e condividerlo con i tuoi amici se pensi che questo possa interessarli o i tuoi colleghi puoi sostenerci tramite il tasto paypal offrendoci un caffè o ciò che vuoi per riconoscere lo sforzo che stiamo facendo per insegnarti tutte queste cose sia gli spoiler sia i tutorial e tutto quello che interessa il tuo mondo bene così smetteranno i nostri vicini di guardarci male e quando ci incontrano per le scale o giù in giardino che ci dicono di ogni dietro e noi stavolta saremo dalla parte della ragione ma la stessa cosa anche per i familiari insomma perché se convivete la vostra moglie la vostra fidanzata i vostri figli i vostri parenti la vostra mamma il vostro papà tutti quelli che convivono e vi sopportano e ci sopportano in questo modo con questa cassa sarebbero salvi quindi l'opzione è io non farò più rumore ma tu comprami questa cassa quindi al prossimo Natale 2021 fatevi comprare questa cassa così minacciandoli di fare rumore altrimenti spero di esservi stato utile con questa chicca per il futuro mi raccomando se a qualcuno interessa questo video condividete così lo fate felice e salverete una situazione familiare da parte di S4DJ Claudio vi auguro una buona giornata e ci si vede sempre qua statemi bene spalasnie ciao